Ciao da Asim! Questo video è stato realizzato con Filmora9, il programma gratuito che ti consente di realizzare video professionali in maniera semplice. Per esempio puoi inserire la funzione green screen, puoi utilizzare la funzione schermo di viso. Come stai? Tutto bene grazie! Poi ci sono tantissime altre funzioni come il cambiamento del colore, le transizioni, musica di sottofondo, testi, altri effetti ed elementi che puoi aggiungere alla schermata. Scarica il programma Filmora9 dal primo link nella descrizione sotto questo video e comincia a divertirti con i tuoi video realizzati in maniera professionale. Ciao da Asim! Meno male che ci ha pensato la gente di Paolo Di Bala, Antun, a mettere in chiaro le cose con una dichiarazione che è stata raccolta e riportata veramente a reti unificata nella giornata di ieri, 18 agosto, nel pomeriggio per la precisione giusto in tempo di dare il tempo a chi aveva creduto, c'era cascato nelle voci di una richiesta di Di Bala da 20 milioni netti a stagione, di scrivere cose sui social, le proprie opinioni per carità e ci sta. Ci sono anche delle opinioni secondo me condivisibili, cioè chi ha creduto alla storia dei 20 milioni ci sta che dica 20 milioni sono troppi. Non ha dimostrato Di Bala tanto da andare a ricevere questa cifra ed è una pretesa spropositata. Ci arriviamo dopo, prima però che cosa esattamente ha detto Antun e quindi che cosa possiamo capire dalle parole dell'agente di Paolo Di Bala non solo in chiave rinnovo, non solo in chiave permanenza, ma direi anche nei rapporti che ci sono con la dirigenza su come si sta lavorando all'interno della Juventus per la gestione della Rosa e la programmazione del presente e del futuro. Intanto Di Bala ha un contratto da circa 7 milioni netti a stagione fino al 2022. Di rinnovo con lui si parla da mesi, o meglio i giornali ne parlano da mesi, ma non c'è evidentemente stata una trattativa così serrata e così intensa, così lunga nel corso di questi ultimi mesi, appunto di questo lungo periodo. Ne aveva parlato Paratici, stiamo lavorando per il rinnovo, filtrava ottimismo. Questo abbiamo potuto apprendere anche da fonti giornalistiche attendibili vicine comunque alla Juventus, però poi di chiaro, di definito non c'era e non c'è ancora nulla. D'altra parte fretta tutto sommato non ce n'è. Se la Juventus non vuole cedere Di Bala e se Di Bala vuole restare, fino al 2022 c'è tempo di rinnovare o meglio, lo si può fare tranquillamente nel corso di questa stagione. Certo, un rinnovo annunciato adesso metterebbe ovviamente a tacere tutte le voci di mercato, darebbe forza alla progettualità, darebbe forza alla Juventus, secondo me anche a livello di valore in borsa, perché queste sono cose che ti aumentano il valore per una questione di progettualità, di programmazione, rinforzerebbe volendo anche la leadership e l'importanza di Di Bala nello spogliatoio, nella rosa, nella squadra e darebbe quindi anche una botta al marketing tutto sommato perché le maglie di Di Bala verrebbero forse vendute anche molto di più ed infatti forse anche per questo si sta aspettando una tempistica ragionevole, adeguata, congrua per tutta una serie di aspetti per annunciare il rinnovo di Di Bala, non che sia già stato confezionato, attenzione, non è così, però evidentemente non si sta accelerando una trattativa che non ha bisogno di essere accelerata perché è solo una questione di tempo, non una questione di se. Non è come l'anno scorso, proprio di questi tempi quando Di Bala era sul punto di essere ceduto ed era stato praticamente già ceduto dalla Juventus stando alla volontà della Juve che è stata poi frenata dalla volontà contraria del giocatore. Quindi le dichiarazioni di Antun ci fanno capire anche questo, un po' le dinamiche su come ci si sta muovendo ma secondo me sotto certi aspetti sono anche un po' una bordata, tra virgolette, alla dirigenza della Juventus, secondo me in maniera ponderata, in maniera equilibrata, moderata, come a dire la nostra volontà come Di Bala, come agente di Di Bala e come Di Bala, proprio come calciatore è questa qui. Vedete un po' cosa dovete, cosa potete fare per venirci incontro ma soprattutto facendo queste dichiarazioni che vi leggo tra un attimo, vi rileggo tra un attimo perché tanto l'avete già lette. L'agente di Di Bala ha probabilmente messo a tacere, ha silenziato, ha depotenziato ogni ipotetica volontà contraria della dirigenza di andare appunto a cercare nuovamente l'accessione del talento argentino numero 10 e vicecapitano. Antonio infatti ha detto, ho letto in questi giorni, ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. A quali voci fa riferimento? Al fatto che Di Bala fosse in cessione da parte della Juve evidentemente, cioè non è che ci sono state voci di un Di Di Bala che cercasse altre squadre perché allora sarebbe stato come andare a smentire la volontà di Di Bala di andarsene dalla Juve. Non è mai stato scritto questo. Le voci completamente false sono in realtà due, due voci principali sono state messe in giro. Che Di Bala potesse essere ceduto dalla Juve e che Di Bala avesse chiesto 20 milioni di euro netti a stagione da 7 cani frente, cioè il triplo, andare a fare una richiesta triplicata. Queste sono le due voci più importanti, entrambe riportate tra gli altri da tutto sport, quella dei 20 milioni più che altro da Corriere dello Sport, se vogliamo citare due testate importanti come fama in ambito italiano, però ci sono state anche voci dall'estero che comunque argomentavano di una possibile cessione di Di Bala. Completamente false, cioè non si discute, sono completamente false, quindi destitute di ogni fondamento. Poi Paolo Di Bala è un giocatore della Juventus felice di esserlo, quindi non vi mettete in testa che Di Bala se ne voglia andare. Ecco qui io vedo un piccolo aggancio per il discorso bordato alla dirigenza, nel senso Di Bala è felice di stare alla Juve, quindi tu Juve sei felice di avere Di Bala perché lui vuole restare, non ci sono discorsi con altre squadre, non c'è la minima intenzione di andare a ragionare con altre squadre, c'è anche questo da dire. E poi ancora, lavoriamo con la società, lavoriamo con la società, cioè stiamo lavorando ma non abbiamo mai smesso di lavorare, questo è quello che intendo io, perché poi è giusto dare grande importanza alle parole, al detto e al non detto, perché quando sono poche parole e sono delle dichiarazioni lapidarie e fatte in maniera studiata scientificamente al momento opportuno e non ripetute nel tempo, sono parole che pesano, quindi lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre. Quest'ultima aggiunta poteva anche essere evitata, nel senso che sarebbe bastato dire lavoriamo con la società per rinnovare il contratto. Con la nostra solita predisposizione di sempre significa sostanzialmente, secondo me, poi andando a capire queste cose, non abbiamo la minima intenzione di mollare rispetto al rinnovo del contratto. Non abbiamo fatto nessuna pretesa esorbitante, non ci interessano altre squadre, questo secondo me è che si può capire, cioè la predisposizione di Dybala è la stessa dell'anno scorso, vuole restare, vuole essere messo al centro del progetto senza pretese eccessive e chiaramente nel momento in cui si va a rinnovare, nel momento in cui De Ligt guadagna più di lui, ma non perché debba Dybala andare a guadagnare di più di De Ligt, perché non è questione di fare magari i litigi o le ripicche, è questione anche di mettere Dybala nella giusta posizione contrattuale, di peso anche a bilancio, ma di peso come importanza all'interno di una società che evidentemente crede in lui per quanto riguarda il campo. E qui allora veniamo ad altre considerazioni sul discorso dei 20 milioni, su quello che Dybala ha fatto vedere e su questa eventuale pretesa comunque del giocatore di un aumento dello stipendio. Perché appunto le dichiarazioni di Antuno sono arrivate al tempo giusto secondo me, ma comunque non abbastanza in tempo, cioè comunque un po' in ritardo come già vi dicevo, da non riuscire quindi ad evitare il chiacchiericcio da parte dei tifosi. Io ho letto cose che voi umani non potete immaginare su Twitter, sui social, cioè gente, tifosi che hanno creduto alla storia dei 20 milioni. E ripeto, se fosse stata vera, chiaramente falsa, ma se fosse stata vera la storia della richiesta di 20 milioni, cioè Dybala che va a rinnovare, vuole rinnovare, non vuole andarsene e pretende il triplo, poi magari non l'avrebbe ottenuto ma avrebbe spuntato non lo so 17-18 milioni ipoteticamente, allora io sarei stato d'accordo a dire non li ha meritati, è una pretesa eccessiva, a questo punto fa meglio ad andarsene. Ma è chiaro che si trattava di una cosa campata in aria, che tra l'altro si va a collocare a mio avviso, e non solo secondo me a quanto leggo, proprio in un contesto di guerra mediatica a Paolo Dybala. E secondo me la società non l'ha neanche protetto abbastanza. Quante voci appunto abbiamo letto, quante volte, quanti giorni consecutivamente è stato scritto, in Italia e non solo, che Dybala stava per lasciare la Juve ancora una volta, che la Juve poteva cedere Dybala ancora una volta. e quindi evidentemente c'è stata una scopertura da parte della società, cioè la società non ha protetto Dybala in questo discorso e ci ha dovuto pensare il suo agente. Anche in questo senso le parole dell'agente di Dybala sono un po' un'abordata alla società. Come a dire, noi qua stiamo lavorando per il rinnovo, quindi mettiamo un po' a tacere tutte quante queste voci, dobbiamo pensarci noi, ok? Ci pensiamo noi. Perché evidentemente nella dirigenza della Juve non c'è proprio tutta un'unanimità di vedute sulla permanenza di Dybala su questo rinnovo. Pare di capire. D'altra parte, chi è che aveva cercato di vendere Dybala l'anno scorso? Non sono cambiate le persone, i dirigenti sono gli stessi, a parte il responsabile finanziario, ma non c'entrava nulla. Per quanto riguarda la gestione del mercato, quelli lì sono gli uomini. E non è che a distanza di un anno può bastare, anche se dovrebbe bastare, una stagione straordinaria, decisiva, determinante da parte di Paolo Dybala per far cambiare completamente l'opinione. Secondo me c'è qualcuno che continua a voler evidentemente cedere Dybala o approvarci all'interno della dirigenza. È una sensazione. Quindi le parole della gente vanno ad intervenire anche su questo, in un contesto in cui Dybala è stato veramente spiattellato sui giornali, in prima pagina, quotidianamente. Oggi veniva ceduto, domani era la necessità della cessione, poi se rinnova, ma se non rinnova va addirittura in scadere. Cioè, ipotesi campate in aria, tirate in ballo così. Con la storia dei 20 milioni si è veramente ceduto, si è veramente superato ogni limite. Evidentemente per quello lì, per quel motivo, la gente di Dybala e Dybala hanno pensato di dover rilasciare una dichiarazione mentre lui è in vacanza con Tukupereira, Depol e Pentancur. Stanno in barca, se la godono giustamente, stanno facendo le loro vacanze. Tra l'altro Dybala forse non si aggregherà fin da subito, il 24 di agosto, al gruppo, primo gruppo squadra di Andrea Pirlo perché tra l'altro è infortunato, come pure De Ligt, che sta in vacanza in Sardegna con Anneke, purtroppo con la spalla fasciata, non so come fa a godersi il mare, ma insomma, gli tocca anche questo. Ecco, però al di là di questo, il discorso del merito, cioè se Dybala ha meritato o non ha meritato, merita o non merita questo rinnovo, comunque ha delle cifre importanti perché se non saranno 20 e non saranno 20, saranno 12-13 alla fine su una richiesta praticamente di 15, che cosa possiamo dire? Ripeto che Dybala ha fatto una stagione strepitosa. È un giocatore che era stato praticamente ceduto dalla squadra, lui nonostante questo, nonostante volesse restare, è riuscito a restare, ma ci ha messo il massimo impegno per meritarsi quella permanenza. Non è che è rimasto a prendere soldi e magari si è chiuso in infermeria, oppure non ha dato prestazioni valide da meritarsi il campo, da meritarsi appunto la conferma e la permanenza. Cioè Dybala che stagione ha fatto, una stagione strepitosa, ripeto, poi magari può segnare anche di più, ma in una stagione in cui Ronaldo fa 35 gol, è chiaro che Dybala difficilmente possa arrivare a farne 20-25, ha anche quei gol nelle gambe, ma che coppia è stata con Ronaldo? Quanti gol decisivi? Quanti assist decisivi? Ma quanta qualità in campo in una Juve che è stata scarsamente, ma scarsamente qualitativa per tutta la stagione? Dybala è stato quello che ci ha fatto fare il salto di qualità. Quindi secondo me si è anche consagrato per una questione di età, per una questione tattica, per una questione di convinzioni, ma certamente la personalità l'ha dimostrata, la qualità l'ha dimostrata, non deve essere messi, nessuno pretende da Dybala che sia Messi o Ronaldo, deve semplicemente essere Dybala, lo sta facendo secondo me molto bene, mi aspetto cose anche superiori per la stagione che sta per cominciare, appena avrà risolto con l'infortunio, quindi non capisco, tolta la bufala sostanzialmente dei 20 milioni, i tifosi che dicono che Dybala farebbe bene ad andarsene e dovrebbe saltare questo banco della trattativa per il rinnovo perché non merita queste cifre, ma chi si crede di essere eccetera eccetera. Cose ripeto sono state scritte, sono state dette, ho potuto leggere e non mi trovano assolutamente d'accordo, ma come sempre sono qui a dirvi la mia opinione senza imporvi naturalmente nessun tipo di certezza, nessun tipo di pensiero e quindi vi lascio come sempre lo spazio dei commenti per arricchire questo video con le vostre considerazioni. Intanto vi ringrazio in ogni caso per la vostra attenzione e mettete like al video se vi è piaciuto e vi è risultato utile ed interessante. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per i prossimi video, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!